Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo allo sport, avevamo già aperto con la pagina sportiva prima della pausa, ora parliamo del Teramo, del bel pareggio interno ieri al Bonolis 1-1 con la Ternana, record di presenze oltre 3.500 spettatori, un bel Teramo, vedete il titolo del messaggero, tiene testa alla Ternana, il vantaggio Umbro dura un minuto, Costa Ferrera firma il gol del pareggio, Tedino al novantunesimo, entrambi volevamo vincere. Vediamo anche la pagina del centro sul pareggio di ieri, Teramo mette in difficoltà la Ternana, vantaggio Umbro e pareggio bianco-rosso nel giro di due minuti, partita combattuta e tirata dall'inizio alla fine. Vediamo quello che è accaduto ieri nelle altre gare, Arietti non si è giocato, la regina avrà i tre punti a tavolino, c'erano delle irregolarità nella distinta presentata dalla formazione laziale, almeno così è stato riferito dalle cronache dopo che era stato proclamato lo sciopero dai giocatori della prima squadra. Vediamo le altre partite, Casertana-Avellino 2-0, Catanzaro-Catania 3-0, Monopoli-Bisceglie 2-1, Paganese-Bari 0-1, Potenza-Vibonese 1-0. E poi vediamo le altre partite, Rende-Picerno 1-0, Sicula-Leonzio-Virtus-Francavilla 1-1, a Viterbo-Cavese batte Viterbese 1-0. Vediamo anche il novantunesimo della gara di Teramo, Tedino ottima prova, si è visto un gran calcio, vi dicevo record stagionale di presenza in casso e Iachini ringrazia i tifosi, Iachini presidente del Teramo, ringrazia i tifosi per il sostegno. Allora andiamo a vedere il servizio su questo pareggio tra i bianco-rossi e la formazione Umbra. Tutto in 60 secondi, tra il sessantesimo e il sessantunesimo si decide il match Teramo-Ternana, finisce 1-1 la prima sfida tra le grandi del Diavolo che se la quota 22 punti, ma dimostra di poter lottare alla pari con una squadra strutturata ed esperta come quella di Gallo. Formazioni confermate sia in casa Teramo con Martignago e Bombaggi alle spalle di Magnaghi, sia in quella Ternana con il recuperato Palumbo in mediana regolarmente con Paghera e Lex Proietti nel 4-3-1-2 che vede Partipiro dietro Ferrante e Marilungo. All'ottavo subito emozioni con Bombaggi prima e Tentardini poi che sfondano sull'out Mancino, servizio per Magnaghi in area di rigore, conclusione Mancina alta sopra la traversa. Altra opportunità per il Teramo al ventesimo, azione insistita dopo un piazzato di Bombaggi, tacco in area di Cristini per il diagonale di Ilari che sfiora il palo alla sinistra di Tozzo. Al ventiquattresimo contatto Marilungo-Cristini in area, protesta la punta rosso-verde ma per Cudini è tutto regolare sul capovolgimento e parodia a immolarsi sulla staffilata di Bombaggi a colpo sicuro. Rientro dagli spogliatoi ed è subito Diavolo contro piede orchestrato da Bombaggi, servizio per il diagonale di Martignago, Tozzo tocca ma non trattiene, Proietti spazza prima che la palla, Varchi la linea di porta. Al cinquantottesimo ancora Teramo vicinissimo al gol, Bombaggi calamita una palla vagante, si gira e conclude, tiro deviato da Suager che quasi sorprende Tozzo. Ma dopo un minuto che arriva la beffa e Partipilo il più lesto ad ammentarsi sulla sfera e ribadieri in porta la rete dello 0-1 che fa esplodere la curva Ternana. Gioia che dura pochissimo, altri 60 secondi e Magnaghi protegge il pallone, vorrebbe andare al tiro ma da dietro arriva come un treno Costa Ferreira che scarica un bolide alle spalle di Tozzo per l'immediato pari. Rete che fa impazzire gli oltre 3.000 del Bonolis. Tedino inserisce Santoro e Mungo per Costa Ferreira che esce in Barella e Martignago. Gallo richiama l'autore del gol, Partipilo per Furlan e dopo qualche istante Torromino e Salzano per Marilungo e Paghera. Le contromisure di Tedino, Cianci e Lasic per Magnaghi e Ilari. Il diavolo ci prova al minuto 88 e lo fa col tiro valetario di Mungo bloccato senza problemi da Tozzo in un finale nel quale il diavolo sembra avere più benzina in corpo. Il barco però per risolverla in extremis l'undici di Tedino non lo trova. Il pareggio può stare anche bene. Domenica prossima l'ostacolo numero 2 ha il volto di Vivarini e le sembianze del Bari. Siamo alla Serie D, parliamo del notaresco de record, 11 vittorie di fila, nulla da fare ieri per il Cattolica San Marino al Savini. È formazione di Vagnoni che si impone per 2-0, Pomante e Sanzovini in gol per un notaresco da record. Vagnoni orgoglioso di allenare questi ragazzi, ha detto il tecnico della formazione Rosso-Blu al novantunesimo. Vediamo anche il messaggero come parla di questa vittoria del notaresco. Vedete il notaresco batte Cattolica e sono 11-11 vittorie di fila. Nessuno ha fatto meglio dalla Serie A fino ai 9 gironi della Serie D. Allora andiamo a vedere il servizio sul successo della formazione Terramana. È una marcia trionfale quella del notaresco che conserva la testa della classifica ed anzi allunga più 4 sulla Re Canatese fermata dalla Sangiustese. E in anella l'undicesima vittoria consecutiva. Dalla Serie A alla Serie D per questa stagione, nessuno ha fatto meglio della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni. Che anche in una sfida che poteva nascondere mille insidie è riuscito a tenere alta la concentrazione contro un avversario che pure aveva fermato il campo basso sul pari appena 7 giorni prima. Anche perché il tecnico Vagnoni si è presentato con una linea mediana, con due assenze pesanti, quelle di Marcelli e Blando e con Capitano Salvatori solo in panchina. Ma chi ha giocato come al solito ha fornito un ottimo contributo. La sfida si mette subito in discesa per il Rosso Blu che all'ottavo sbloccano sugli sviluppi del primo angolo e Pomante, capitano proprio per l'assenza di Salvatori, al suo secondo centro stagionale a mettere dentro da pochi passi dopo una leggerezza difensiva ospite. Sale a dismisura l'entusiasmo al Savini, già caldissimo al fischio d'inizio e potrebbe venire giù grazie alla combinazione Sansovini-Romano con Pallonetto al volo di quest'ultimo e palla che lambisce il palo. Il Cattolica è squadra che tiene bene il campo ma che non riesce a impensierire la retroguardia di casa che al contrario costruisce palle-gole. Al trentaduesimo è clamorosa quella che capita a Cancelli con palla calciata alta da pochi passi dopo una bella combinazione corale. Nello spazio di due minuti poi ci provano prima Frulla al trentasettesimo con una sessata su punizione che fa correre un brivido da Aglietti bravo a bloccare a terra invece al trentanovesimo il tentativo in precario equilibrio di Sansovini dopo un bel cross e di Di Stefano. Ma il raddoppio è nell'aria ed arriva proprio nel corso del primo ed unico minuto di recupero. I cramella e Cancelli portano avanti l'azione con quest'ultimo che prima di essere steso da un avversario riesce a servire Sansovini. Il resto lo fa il numero 11 che ricorda l'amico Cascione, trainer del Cattolica che il vizio del gol resta quello dei giorni migliori finta e diagonale imparabile per Aglietti settimo gol in stagione per l'ex punteros del Pescara. Dopo l'intervallo nonostante il doppio vantaggio il notaresco crea occasioni a grappoli e solo la bravura di Aglietti non fa gioire ancora il pubblico del Savini. Al quinto è il solito Sansovini a provarci con la conclusione fotocopia del gol di Matelica l'intervento del numero 1 romagnolo è da applausi come quello che nega la gioia del gol 60 secondi più tardi a Di Cramella che ci aveva provato con un tiro a giro sul secondo palo ma l'avemenza della formazione di Vagnoni non conosce freni ed al sedicesimo l'azione d'applausi a scena aperta per come si sviluppa Cancelli recupera il pallone con caparbietà e giocate d'alta scuola lo porta avanti Romano appoggia per Sansovini che in becca frulla solo un attimo Aglietti nega la gioia della rete dove non arriva l'estremo ospite ci pensa la traversa che nega la gioia della marcatura di Cramella la cui frecciata balisticamente parlando avrebbe meritato miglior sorte al trentatresimo con la sfida ormai indirizzata a favore del notaresco sostituzione standing ovation per Sansovini con il pubblico del Savini in piedi ad applaudire e questa è l'ultima emozione della sfida dopo il triplice fischio c'è spazio solo per la festa l'undicesima di fila in questo campionato da applausi per il notaresco sempre più capolista Siamo al Chieti, Chieti sprofonda 2 a 0 Grandoni verso l'esonero, questo è il titolo del messaggero in realtà Grandoni ieri sera è stato esonerato alle 21 alla notizia, lo dicevo prima è stata data in diretta dal direttore generale del Chieti Masciangelo proprio nel corso della trasmissione l'Abruzzo del pallone vediamo anche il centro come titola sulla sconfitta del Chieti Chieti altra sconfitta, Grandoni e esonerato ora Amaolo o Di Meo allora andiamo a vedere quello che è accaduto sul neutro di Agnone con la sconfitta dei Neroverdi Tante le motivazioni di vittoria per il vasto Girardi dopo la sconfitta esterna con Montegiorgio dove si è contestato e non poco nei riguardi dell'arbitraggio alla Civitelle arriva il Chieti guai al di sotto della mediana per mister Farina che deve fare a meno di Ruggeri per squalifica e Corbo per infortunio a capo della terna arbitrale il signor tagliente della sezione di Brindisi subito i locali vicini al vantaggio conclusione al veleno di Petrone sulla respinta di Camerlengo Keremateng non dà forza la ribattuta Bratelli arriva prima di Varsi e salva il tutto ancora al nono l'azione parte sempre da Petrone questa volta dopo la parata di Camerlengo ci pensa Gentile a divorare il vantaggio al quarto d'ora si fa vedere anche il Chieti respinta corta della retroguardia giallo-blu calcia milizia che chiama Caparro al primo intervento di giornata ventiduesimo calcio di punizione dalla corsia di destra per il giallo-blu di Lullo Pennella al centro Mikhailoski di Potenza strepitoso ancora una volta il portiere abruzzese intorno alla mezz'ora prosegue il festival delle occasioni sciupate per gli alto molisani Gentile confeziona un pallone preciso per Keremateng che a pochi passi manda clamorosamente alto la svolta al trentaduesimo Camerlengo uno dei migliori in campo dei suoi entra su Varsi in maniera scomposta detta del direttore di gara che assegna il calcio di rigore Keremateng vince il duello col portiere avversario degli undici metri e porta avanti il tasto Girardi uno a zero il risultato con il quale si chiude il primo tempo con la regia di Antonio Di Perna ci occupiamo della sfida a terra Keremateng dopo un contatto in area lascia giocare il signor Tagliente superata la mezz'ora timido a fondo abruzzese con il nuovo entrato Bruschi Caparro si fa trovare pronto vuole allungare però il vasto Girardi Varsi fa le prove per il raddoppio entra in area conclusione debole neutralizzata da Camerlengo dopo due giri di lancette similare situazione sui piedi di Fazio nelle insolite vesti del centro avanti calcia addosso al portiere stesso portiere abruzzese che al novantesimo pecca in un rinvio da Guanno ringrazia e scrive la parola fine sul confronto vince due a zero il vasto Girardi che agguanta niente proprio di meno che il quinto posto 19 punti insieme al Matelica e se la quota salvezza è 40 le alto molisani sono già a metà dell'opera Siamo alla Vastese Vastese che si sveglia nel secondo tempo Stivaletta vedete il titolo del centro evita il capo il Porto Sant'Espiglio meglio nei primi 45 minuti poi nella ripresa la reazione dei Biancorossi che sbagliano anche un rigore con Dos Santos e colpiscono un palo bella gara quella giocata ieri allo stadio Aragona andiamo a vedere il servizio se non riesce a sfruttare al meglio il doppio turno casalingo e dopo aver superato il Tolentino è costretta ad accontentarsi del pareggio con il Porto Sant'Espidio al termine di una gara comunque ricca di emozioni e domenica prossima ci sarà un'altra marchigiana sulla strada dei Biancorossi l'area canatese di Federico Giampaolo i padroni di casa senza Pollace e Palumbo ritrovano vittorio esposito dall'inizio Mattia Altobelli tesserato in settimana va in panchina la squadra di Amelia si schiera con il 4-4-2 ospiti che rispondono con lo stesso schieramento parte forte la squadra di Mengo che al quinto trova il gol con Maio che dai 25 metri su punizione contestata dei padroni di casa con la complicità della barriera supera Lorenzo Bardini con la palla che si infila le sue spalle all'angolo a mezza altezza con il vantaggio marchigiano si fa subito così in salita la gara per la vastese costretta già ad inseguire dopo qualche minuto di assestamento al diciottesimo arriva la prima conclusione in porta dei locali con Marianelli che impegna centralmente il portiere marchigiano Giacchetta che poi è bravissimo al ventiquattresimo a rispingere la conclusione ravvicinata di Perocchi che arriva ad un passo dal gol del pareggio il porto Sant'Elpidio si dimostra però avversario a dir poco ostico e al trentesimo Montserrat di testa fallisce il raddoppio la gara vive di continui strappi dall'una e dall'altra parte come accade poi al trentatresimo quando Vittorio Esposito su punizione quasi dal limite mette la sfera di un soffio al lato al trentacinquesimo ancora ospiti pericolosi con un colpo di testa al lato di Cucu sul capovolgimento di fronte Francesco Esposito cade in area marchigiana e chiede il rigore con Luongo di Napoli che lascia però proseguire fra le proteste locali l'ultimo sussulto del primo tempo arriva al quarantacinquesimo con un tiro al lato di Perocchi nella ripresa al primo bambola della difesa aragonese Palo Clamoroso colpito da Mazzieri per gli ospiti che al secondo si rendono poi pericolosi con Cucu che chiama Bardini al miracolo al quarto i locali chiedono ancora un penalty dopo una caduta in area marchigiana di Francesco Esposito ma il direttore di gara Campano lascia proseguire all'undicesimo però dopo un contrastro fa Monserrate Vittorio Esposito Luongo di Napoli indica questa volta il dischetto con Dos Santos che però dagli undici metri manda il pallone sopra la traversa al diciassettesimo triplo cambio nella vastese con l'ingresso in campo di Stivaletta Cavuoti Alonzi per Dos Santos Loggello e per Occhi rispetto al primo tempo preme con insistenza la squadra di Amelia anche se al ventitresimo Cucu mette la palla di un soffio sopra la traversa al ventiquattresimo sembra fatta per gli abruzzesi con Cavuoti che fa tutto bene mandando poi il pallone a stamparsi sul palo al ventiseiesimo minuto ancora vastese protagonista con Francesco Esposito che in area alza troppo la mira diventa un assedio la gara con la squadra di casa che sbaglia ancora al ventinovesimo e sempre con Francesco Esposito che mette alto da buona posizione solo vastese nella ripresa con il pareggio strameritato di Stivaletta al trentaduesimo con l'Aragona che si rianima per un finale di partita che vede ancora gli assalti dei locali però infruttuosi con l'uno a uno finale che sta stretto alla squadra del presidente Bolami siamo al messaggero Avezzano tradito dalla pioggia uno a uno il finale dei Marsi con il Montegiorgio in vantaggio con il gol di Puglielli su azione di Cancelli il Montegiorgio va subito in pari con il rigore di Marchionni l'allenatore quel penalty non è in cera ma va così ha detto il tecnico dell'Avezzano contestando in un certo senso la decisione del direttore di gara vediamo anche il centro sempre sull'Avezzano su questo pareggio casalingo vedete Avezzano beffa sul rigore pari con il Montegiorgio allora andiamo a vedere il servizio sulla gara giocata al De Marsi servizio curato per noi da Luca Pulsoni un Avezzano a caccia di certezze ospita la sorpresa Montegiorgio al terzo posto in solitaria dopo le vittorie rimediate contro Iesina e Vasto Girardi per dare seguito ai primi tre punti esterni sul campo del Porto Sant'Elpidio Liguori conferma l'undici vittorioso nelle marche riproponendo Puglielli assieme a Quatrana e Cancelli a supporto di Gaeta nel 4-2-3-1 a trazione offensiva Baldassarri senza lo squalificato Titone ripropone il consueto 4-3-3 con la novità Marchionni in avanti assistito da Albanese e Nasic il primo squillo è di marca bianco verde al sesto Puglielli si libera Ermel destro conclusione centrale facile preda di Mercorelli al diciassettesimo replicano i marchigiani ma la conclusione dell'ex Pineto Mariani termina lontanissima dal bersaglio due giri di lancetta e altra chance Avezzano Quatrana pennella da piazzato la palla sbuca davanti a Mercorelli che salta i suoi riflessi e spedisce in out 60 secondi e l'Avezzano la sblocca azione meravigliosa sull'asse Quatrana-Cancelli palla al centro per l'inserimento di Puglielli che gonfia la rete e fa 1-0 primo gol in campionato per il 10 di casa e Avezzano avanti neanche il tempo di godersi il vantaggio e il Montegiorgio pareggia alla mezz'ora di Gian Felice ferma un lanciatissimo Marchionni al limite dell'aria il signor Fichera di Milano assegna la punizione dal limite ma poi cambia idea decretando la massima punizione tra le proteste dei Biancoverdi esecuzione perfetta di Marchionni che fa 1-1 secondo centro stagionale per l'attaccante rosso-blu e parità ristabilita al 36esimo ancora marchigiani pericolosi con Mariani che trova la pronta respinta di Fanti in chiusura di tempo si fa rivedere l'avezzano ma la parabola di Quatrana non scende e la palla si spegne sul fondo in avvio di ripresa subito pericoloso il Montegiorgio al sesto volè di Mariani dal limite palla che c'entra in pieno il palo a Fanti battuto due minuti più tardi altra occasione per gli ospiti ma il diagonale di Albanese trova i pugni di Fanti il Montegiorgio alza i giri e schiaccia i marzicani Liguori corre ai ripari inserendo Franchi per Quatrana e i biancoverdi hanno un sussulto al tredicesimo con Gaeta che si libera e va al tiro è solo in legno a negare il vantaggio all'avezzano al quattordicesimo torna in avanti il Montegiorgio con Mariani che libera Trillini che scara Bocchia e cestina l'occasione Liguori gioca le carte di Hoppe Sicari per Cancelli e Puglielli mentre Baldassarri richiama Marchionni e Lattanzi per Tempestilli e Aloisi al trentaseiesimo è quest'ultimo a provare ad impensierire Fanti ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete al quarantaduesimo altro squillo di Aloisi che libera il tiro Fanti risponde presente sui titoli di coda del match torna a farsi vedere l'avezzano con Sicari che raccoglie il pallone dal limite tiro di prima intenzione che termina lontano dallo specchio gli ultimi quattro di recupero sanciscono il secondo risultato utile di fila per l'avezzano che sale a quota 12 a meno 3 dalla zona salvezza altro punticino per il Montegiorgio che scende al quarto posto ma continua a sognare e chiudiamo la pagina della serie D con la sconfitta del Giulianova Iesi sul campo dei marchigiani che fino a ieri non avevano mai vinto prima della gara con i giallorossi Giulianova fa resuscitare vedete il titolo la Iesina rabbia del grosso niente alibi vediamo anche il messaggero come parla di questa partita di questa sconfitta del Giulianova Giulianova da dimenticare brutto K.O. con la Iesina mai un tiro in porta brucia la sconfitta contro il Fanalino di Coda allora andiamo a vedere il servizio sulla gara giocata al Pacifico Carotti è finita così con la Iesina a raccogliere gli applausi dei propri sostenitori per il primo successo stagionale con i giocatori del Giulianova a testa bassa al rapporto dai propri ultra amareggiati per la pessima figura offerta non un solo tiro in porta per i giallorossi che hanno ancora una volta sfoderato l'ormai classica prestazione da trasferta l'1 a 0 con cui i marchigiani hanno chiuso l'incontro è persino bugiardo perché i padroni di casa hanno sfiorato a più riprese il raddoppio e non è un caso che il migliore tra gli ospiti alla fine è risultato essere il portiere di Piero i leoncelli che in settimana hanno affidato la panchina all'esperto Sauro Trillini hanno iniziato subito a testa bassa e anche con un certo ordine nonostante le pessime condizioni del manto verde del Carotti Cruz Pereira e Villanova sono in giornata di grazia già al sesto potrebbero far male ma l'azione viene fermata per un offside di Cruz che per la verità appare più che dubbio il vantaggio la Iesina lo trova al tredicesimo con un bel pallonetto di Villanova dopo l'ennesima infilata della retroguardia giuliese poco filtro al centro campo e grosse difficoltà sugli esterni per la truppa di Federico Del Grosso nel Giulianova si fa male di Paolo a metà tempo dentro Vitelli ma è la Iesina a sfiorare il raddoppio piuttosto che il Giulianova il pareggio è super di Piero nella deviazione sulla rasoiata di Picozzi dopo una palla allontanata male dalla retroguardia a fine primo tempo Del Grosso prende la via degli spogliatoi piuttosto contrariato ma nonostante la strigliata la truppa giuliese torna in campo a scarto ridotto Verruschi acciaccato tra i locali resta in sala massaggi dentro Maggioli che a turno chiude bene su Fiorette e su Vitelli la Iesina a tratti dall'impressione di arretrare il raggio d'azione per poter colpire di rimessa le impiudi in una circostanza Cruz e Villanova mandano in affanno la retroguardia ospite Enrico con una bordata da fuori fa correre un brivido a Di Piero notte fonda per il Giulianova al minuto 24 quando Gueye con un'entrataccia rimedia il rosso e poco dopo è la parte superiore della traversa negare il gol ai locali sullo splendido tiro di Barchiesi l'incontro si chiude con i marchigiani in avanti legittimando il vantaggio tre punti che consentono di abbandonare l'ultimo posto in classifica e di guardare al futuro con una maggiore speranza verso quel traguardo che si chiama salvezza ad oggi ancora irraggiungibile per il Giulianova martedì alla ripresa degli allenamenti si profila una faccia a faccia tra il tecnico del grosso e i suoi giocatori avevo detto erroneamente che con questo servizio avremmo chiuso il capitolo sulla serie D ma c'è il Pineto tra l'altro una delle migliori abruzzesi di questa stagione Pineto ieri fermato però sul pareggio dal Matelica al Mariani Pavone 1 a 1 Tomassini illude l'ex tra l'altro di questa partita la formazione marchigiana ma il Pineto c'è e centra il pari con un gol di Bianciardi allora andiamo a vedere il servizio della nostra Roberta Di Sante Spettacolo ed emozioni al Mariani Pavone nel big match di giornata termina 1 a 1 tra Pineto e Matelica un pari sostanzialmente giusto che arriva al termine di una gara ben giocata e ricca di occasioni ma che muove poco in chiave classifica 4-3-3 per i due tecnici senza Ciarcelluti e Marini squalificati con Orlando e Pippi out per infortunio Racchini recupera Sciba in porta e Bianciardi in mediana riadatta d'Angelo a terzino sinistro e inserisce festa terminale offensivo l'ex vastese Avezzano Colavitto senza Leonetti squalificato per due turni si affida all'ex capocannoniere autore di 16 reti col Pineto nella passata stagione Simone Tomassini supportato sulle ali da Bugaro e Moretti dopo un avvio equilibrato la gara si accende al 19esimo con il più classico dei gol dell'ex Moretti pennella il cross in area tocco di acquadro e colpo di testa vincente di Tomassini che insacca sul primo palo senza esultare con rispetto per il suo recente passato Biancazzurro il Pineto non ci sta e la reazione dei locali è immediata al 25esimo sugli sviluppi dell'angolo di Amadio Pepe svetta ma la sfera resta lì il più lesto è Bianciardi che insacca il raso terra alle spalle di Urbietis e pareggia i conti la gara entra nel vivo al 36esimo Amadio verticalizza per acquadro che sceglie di appoggiare per Alessandro che va in gol ma la rete viene annullata per fuori gioco passano due minuti e sul fronte opposto è pareggio anche nei gol annullati angolo di Bugaro in area croce mette a segno il tapin ma l'arbitro ravvisa un fallo di mano si va così al riposo sul parziale di 1 a 1 anche nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto e su alti ritmi Rachini accentra Alessandro riferimento avanzato ma a prendersi la scena è uno scatenato al minuto 2 il centravanti spizza di testa spedendo al lato e 5 minuti più tardi per un soffio non sorprende sciva con un pallonetto dai 30 metri al diciannovesimo invece è Sarrizzu a portare pericoli dalla destra ma Pupeschi anticipa in corner il più pericoloso però è ancora una volta Simone Tomassini al minuto 20 l'ex in gran giornata raccoglie il traversone e centra in pieno la traversa la gara è viva e le due squadre rispondono colpo su colpo al 28esimo l'incornata di Speranza esalta i riflessi di Urvietis che compie il miracolo passano 4 minuti e il Pineto si vede annullare la seconda rete di giornata sul corner di a quadro il capitano va in gol ma commettendo fallo secondo Robilotta di Sala Consilina tutto da rifare per i biancazzurri che al 36esimo provano da fuori con Bianciardi senza successo emozioni anche nel finale al 42esimo Massetti entra così su D'Angelo e il direttore di gara estrae il rosso diretto col Matelica che resta in 10 e al 45esimo il Pineto potrebbe approfittarne Alessandro taglia la difesa e serve Massa che tutto solo spedisce incredibilmente oltre la traversa per la disperazione dei tifosi di Fede Biancazzurra finisce così senza vincitori ne vinti una gara bella da vedere tra due formazioni che giocano un buon calcio ma con un 1 a 1 che in chiave classifica serve poco ad entrambe e siamo al torneo regionale di eccellenza di calcio vediamo cosa è accaduto ieri Gragnoli rianima il lanciano una zampata del centroavanti stand il Sambuceto riporta i rossoneri alla vittoria dopo tre turni 1 a 0 dei frentani sulla formazione del Sambuceto vediamo le altre gare Delfino Flacco Porto spoltore 0 a 1 Virtus Cupello Bagigalupo Vasto Marina 1 a 2 e poi Torrese Capistrello 2 a 1 Penne Acqua e Sapone 1 a 1 Nereto Angizia Luco 0 a 1 Rilato Curi Angolana Arba Adriatica 1 a 4 Nero Stellati Ponte Momano 2 a 3 la pioggia ferma la capolista Castelnuovo rinviata la partita di Paterno proprio per impraticabilità di campo vediamo la promozione il girone A con la sorpresa della sconfitta dell'Aquila sul campo del Pucetta Pucetta che vince per 3 a 2 ferma la corsa dell'Aquila i marsicani mai timorosi si impongono sull'Aquila che perdono lo scettro dunque il primo posto in classifica l'Aquila ora al terzo posto vediamo le altre partite Celano Mutignano 0 a 3 Miano Amiternina Scoppito 0 a 3 Montori 88 Morrodoro 3 a 1 Real Atria Rosetana 1 a 3 Mosciano Piano della Lente 2 a 1 San Gregorio Nucleb Villa Mattoni 3 a 2 Torni in parte Pizzoli 1 a 0 Nuova Santigidiese Fontanelle 5 a 0 vediamo il girone B dove il Casal Bordino non conosce ostacoli cala il poker e vola più 13 sulle seconde Val di Sangro Casal Bordino 0 a 4 San Salvo Athletic Lanciano 7 a 2 Fossa Cesia Scafa Passo Cordone 2 a 2 Miglianico Fate Arangelini 1 a 2 Ovidiana Sulmona Elicese 4 a 1 Ortona Villa 2015 3 a 1 San Giovanni Teatino Virtus Ortona 1 a 0 Bucchianico Casolana 2 a 1 Silvi Raiano 5 a 0 Chiudiamo definitivamente il capitolo del calcio apriamo quello relativo al basket con la serie a 2 maschile ed il bis di Roseto bandiera bianca per Orzi Nuovi Gli Sharks centrano la seconda vittoria consecutiva Nicolic fa la voce grossa L'americano Latin è impeccabile 87 ad 82 Il successo di Roseto su Orzi Nuovi Una vittoria importante per la squadra rosetana che sale a 8 punti in classifica Roseto che nel prossimo turno giocherà sul campo del Ravenna D'Arcangeli il coach Rosetano esulta ma punge arbitro e pubblico Vediamo anche la serie B Esachieti da urlo Batte Rimini 72 a 64 Vince anche Teramo sempre in serie B maschile 70 a 68 sul parchè del porto Sant'Elpidio Vediamo poi la Cigold Lanciano punti sudati Passa a Perugia per 85 ad 80 Vasto batte Osimo 67 a 60 Magic Chieti che passa a Falconara per 80 a 60 Vediamo la C Silver in questo caso Mosciano Pescara 54 a 63 Teramo Aspicchie Rino Termoli 104 a 29 Amatori Pescara Nuo Baschetta Aquilano 72 a 79 Air Termoli Torres Pes 69 a 75 Silvi Farnese 72 a 66 E poi la Sieco Impavida irresistibile Siamo al volley di serie a 2 maschile Quinta vittoria di file della Capolista Che pur senza Marx per la prima volta Batte Bergamo con il punteggio di 3 a 0 Parziali 25-15, 25-23 e 27-25 Siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi Con Mattino 6 Grazie a Claudio Di Giacomo e Loris Bennato in regia Grazie a voi per la cortese attenzione Vi ricordo come sempre, come di consueto Per quanto concerne l'informazione della nostra rete Alle 14 la prima edizione del TG6 Le altre edizioni come sempre alle 19 e alle 23 Questa sera non perdete, nonostante la sosta di campionato Non perdete il nuovo appuntamento con Replay Condotto da Enrico Rocchi Dei nostri studi per parlare del pescare in vista della gara Di venerdì prossimo con la Cremonese E' davvero tutto, grazie e buona giornata Grazie Buongiorno, ben trovati lunedì 18 novembre 2019 Primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa Mattino 6 con la lettura dei quotidiani che troverete oggi in edicola L'apertura come sempre dedicata alle prime pagine dei quotidiani della nostra regione Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara Per vedere quali sono i titoli principali delle notizie Che poi ritroveremo all'interno del giornale Vedete in alto, traffico e parcheggi Ecco le novità Piano del comune a Pescara Viale Marconi a tre corsie Per far transitare i bus ridotti I posti auto Vediamo anche nelle cronache Camera di commercio Chieti Pescara Fedelissimi al lavoro Sono 45 i premiati E poi sempre a Pescara Piove dentro il palazzo e allarme A Fontanelle A Montesilvano Luminarie di Natale Anche in via Vestina Come sempre ampia la pagina dello sport del lunedì Partiamo dal Pescara Che dopo la sosta si concentra Sulla gara di venerdì prossimo all'Adriatico Alle 21 con la Cremonese Ma si avvicina il mercato di gennaio E ci sono già le prime voci Potrebbe partire Brunori Che ha richieste dalla Lega Pro In entrata Spunta il nome di Decol Ex Lanciano E Spezia Ancora calcio Questa sera alle 20.45 Torna in campo L'Italia di Mancini Contro l'Armenia 11 vittorie di fila Per la formazione 10 vittorie di fila Per la formazione Del tecnico Azzurro Dunque si vuole Continuare a stupire La qualificazione Come tutti E saprete E già in Cassaforte Vediamo ancora Altro sport Il Formula 1 Il Gran Premio del Brasile Trionfo Red Bull Con Verstappen Disastro Ferrari E poi il calcio In eccellenza Colpo dello spoltore Botte nel match Popoli Carsoli Andiamo a vedere La prossima pagina Che è quella Di Chieti Lanciano Vasto Sempre prima pagina Del centro Crollo a scuola Lavori mai partiti All'ITIS Già 15 milioni di euro Per la sicurezza Ma la provincia Non ancora appalta I lavori E poi vedete Lo sport in primo piano Per quanto riguarda Proprio Il Chieti Perché è di ieri sera La notizia Che abbiamo dato Tra l'altro In diretta In anteprima Proprio Nel corso Dell'Abruzzo Del pallone Nel collegamento Telefonico Che il nostro Jacopo Forcella Ha avuto Con il direttore Generale Della società Neroverde Che ha annunciato Proprio Durante questo Collegamento L'esonero Di Grandoni Che non è più L'allenatore Del Chieti In giornata Dovremmo conoscere Il nome Del sostituto E dunque Del tecnico Che prenderà Il suo posto Ieri per il Chieti Sconfitta Ad Agnone Con il vasto Girardi Per 2 a 0 Vediamo le altre notizie Sempre dalla prima pagina Del centro Lanciano Piano di emergenza Mancano Le zone rosse E poi vedete Più in basso Vasto arrivano I rinforzi Ai vigili Del fuoco E poi vediamo Ancora lo sport Questa volta Il basket Le sacchieti Da applausi La sieco Ortona E' irresistibile Vince Ancora anche Senza il tedesco Marx Ed è sempre Prima In classifica Ma quella di ieri E' stata anche Una giornata Di lutto Per la nostra Regione Perché è scomparso Il magistrato Ex procuratore Bruno Paolo Amicarella Aveva 85 anni Indagò anche su Tangendopoli Oggi si terranno A Pescara I funerali Vediamo ancora La prossima pagina Del centro Che è quella Di Teramo Un'autostrada Per i campi da scia 24 collegate Ai prati di Tivo Sopra luoghi Della provincia Di Teramo Ci sono due Ipotesi In ballo E poi I danni sulla costa Per le ultime mareggiate I massi non bastano Contro Le mareggiate Che stanno flagellando Da diversi giorni Nelle nostre coste Poi Teramo All'Aquila Per avere un super ospedale E poi vediamo Più in basso L'altra notizia Ancora Teramo Il Vescovo Benedice I trattori Con la manifestazione Che c'è stata ieri Con la Col di Retti Vediamo anche Il calcio Partendo dalla serie C Teramo Un buon pari Contro la forte Ternana E poi in serie D Notaresco record Scappa via Con 11 vittorie Di fila E questa volta Il record assoluto Per i campionati di calcio Nel nostro paese Dalla serie A Alla serie D Vediamo La prima pagina Del centro Edizione di L'Aquila Avezzano E Sulmona Rifiuti in arrivo L'isola intelligente Verso l'addio All'Aquila Il porta a porte I primi sperimenti In centro E nel quartiere Del Torrione Incidenti con due feriti All'Aquila Torri in parte Un uomo di 50 anni E grave E poi Avezzano Trasfusione killer Colpa del Ministero Morì una donna Rissa nella movida Feriti due giovani In centro A Sulmona L'Aquila cade Siamo al campionato Di promozione Impresa del Pucetta Botte nel match Dei campionati Direttantistici Abruzzesi In prima categoria In particolare Nella partita Nel match Popoli Carsoli Andiamo a vedere Anche la prima pagina Dell'inserto Abruzzo Del messaggero Maltempo Non solo sulla costa Ma anche all'interno La Marsica Finisce sott'acqua Esonda il fiume Mele Piena del fucino Allagata Strade chiuse Scoppia il caso depuratore Nuove mareggiate Si accaniscono Contro il litorale Spazzata via La pista ciclabile Di Roseto Lanciano Frana A Santa Giusta Via all'Appalto E poi ambiente Undici palazzi Esempio di risparmio Energetico Vediamo Poi a centropagina Ritroviamo ovviamente La notizia Della scomparsa Del procuratore Bruno Paolo Amicarelli PM Di Tangentopoli Vedete in Questa foto Abbracciato Dal vescovo Di Pescara E poi vediamo Ancora L'Aquila Piano della scuola L'Aquila Insorge Riforma Dannosa Andiamo nella parte bassa Della pagina Per vedere La notizia Che riguarda Sul Mona La movida Violenta Picchiato Un diciassettenne Andiamo invece poi Nella parte alta Come ogni lunedì Lo spazio Dedicato Allo sport Un notaresco Da record Battuto pure Il Cattolica In serie D Undici vittorie di fila In serie C Pareggio Uno a uno Tra Teramo E Ternana In serie B Tra Pescara E Cremonese Sarà una sfida In casa Ciofani Perché i due fratelli Ciofani Saranno uno Di fronte All'altro Nella gara di venerdì Matteo Ciofani Del Pescara Daniel Ciofani Attaccante Dei Grigio Rossi Lasciamo per il momento I quotidiani abruzzesi Relativamente alle prime pagine Andiamo a vedere invece L'edicola nazionale Partiamo Dal messaggero nazionale Ilva La proposta Mittal Al governo L'azienda Pensa Un'intesa Su scudo penale Occupati E piano industriale E poi torniamo al maltempo A Venezia Acqua Alta Un metro e mezzo Valanghe al nord Allagamente al Napoli Italia Nella morsa Del maltempo E poi Allarme dell'Unione Europea In Italia Popolazione a picco Effetto Sulle pensioni L'Eurostat dice Saremo Meno 130 mila l'anno Crolla la fiducia Dei giovani Nella crescita E poi tornando al maltempo Vedete Piovono alberi Tragedia sfiorata a Roma In Emilia e Toscana Straripano I fiumi Vediamo La stampa Acqua e neve Paralizzano L'Italia Fiumi sono andati In Emilia e Toscana L'Arno fa paura Frane e Slavile Nel nord-est Paesi Senza luce E poi La politica nazionale PD La svolta A sinistra Di Zingaretti Di Maio Sconcertante Parlare Di Ius Soli Il tempo Vietato Lavorare nel Lazio Vedete Il titolo Scusate Il tempo Poi parla anche Delle questioni politiche Già che litigavano poco Ora si scannano Pure sullo Ius Soli Il mattino di Napoli Campania Centro-destra Avanti Il sondaggio Lega Forza Italia Fratelli d'Italia Batterebbero De Luca Sia con Caldoro Che con Carfagna Mastella Distacco dal centro-sinistro Di 10 punti La variabile Movimento 5 Stelle Berlusconi Il 16 per cento Cala Il carroccio E poi Maltempo I danni a Ischia Cancellata la spiaggia Firenze Paura Per il fiume E poi la questione Ilva Vedete la proposta di Mittal Riapre La trattativa I franco-indiani Studiano un piano per occupati E scudo penale Ma ora Conte Prende Tempo Vediamo il fatto quotidiano L'Italia perde un milione al giorno Ma premia E aumenta I dirigenti Questo è il titolo Principale Del fatto Poi in alto Vediamo altri due titoli La svolta sinistra Dei democratici Zingaretti Lancia Lo Ius Soli E il movimento 5 Stelle Lo Gela Pensi All'Italia Sott'acqua Vediamo anche il prossimo quotidiano Che è libero Attici Di cittadinanza Case gratis Ai grillini Vizietto della nuova casta E occupare immobili dello Stato E pagarli quattro soldi O nulla E poi Vedete Più a centro pagina Amendola Bonetti e Pisano Che fanno Ministri con poltrona Ma privi Di capacità Scrive il quotidiano Libero Il secolo.it Conte con l'occhio nero Oggi il governo incassa La fiducia Anche con il voto Della deputata Che non parla Non vede E non sente Vediamo poi in basso In primo piano Zingaretti Getta la maschera Meloni Il PD vuole Lo Ius Soli E poi Zingaretti Si spinge Ma Di Maio E' sconcertato Poi allarme Maltempo Rischio Esondazioni Di fiumi In diverse regioni Del nostro paese Queste sono le pagine Interne del quotidiano Il secolo Ora possiamo tornare I quotidiani Abruzzesi Per andare a vedere Pagina 2 Del centro I riconoscimenti Per i fedelissimi Del lavoro 45 premiati Nella cerimonia Che si è tenuta Ieri al teatro Maruccino Di Chieti La camera Di commercio Chieti Pescara Ha poi tributato Due menzioni speciali Per l'amministratore Delgado Della Pilkington Marco Vecchio Per l'ex compianto Presidente Della camera Di commercio Di Chieti Pescara Daniele Beci Vedete nella foto Alcuni dei premiati E la cerimonia Poi vediamo in basso Manovra Con richiesta Di emendamento Il presidente Della regione Marsilio Chiede di potenziare I nostri porti Parla di 50 milioni Che dovrà avere La nostra regione In tre anni Se ne era parlato Anche qualche giorno fa In un incontro Che c'era stato A Pescara Con l'autorità portuale Del centro Italia Di Ancona L'addio ad Amicarelli Il magistrato simbolo Della nostra regione Muore 85 anni Il procuratore Di Tangentopoli Stimato dai colleghi E dagli avvocati Oggi Alle 15 Si terranno i funerali A Pescara In Abruzzo Fu al vertice Della giustizia Per otto anni All'Aquila Così lo ricordano I suoi collaboratori Intanto domani Cambiando argomento Torna il consiglio regionale E approda In aula Il dramma erosione La regione darà Il via libera I primi 2 milioni di euro Per gli ingenti danni Delle mareggiate Vediamo le cronache Dalle nostre città Dalle nostre province Partiamo da Pescara I progetti Per una Nuova Pescara Una nuova Pescara In questo caso Riguardante il traffico E la viabilità Via Le Marconi Meno posti auto E tre corsie Per far passare i bus L'assessore Luigi Alboremascia Rispolvere il piano Della passata giunta Annuncia una rivoluzione Per Porta Nuova Ridurremo i parcheggi E trasformeremo le rotatorie Per rendere più veloci I mezzi pubblici Ha detto l'assessore Vediamo la prossima pagina Del quotidiano Il centro Alloggi popolari L'emergenza Piove in un palazzo A Fontanelle Gli inquilini Al freddo E al buio La rabbia Dei residenti Del civico 23 Di via caduti Per servizio L'acqua è scesa Dal tetto Per sei anni Anziani e disabili Prigionieri in casa Intervento del comune Del gruppo Giona Dei vigili urbani E poi Appello al comune Sfrattata Chiede una casa Dice Ho un figlio Di 15 anni E poi L'alluvione in Toscana I vigili del fuoco In soccorso di Pisa Colleghi di Pescara Impegnati anche Nelle operazioni Del maltempo Per il maltempo In Toscana Andiamo avanti Treni troppo cari Pendolari pescaresi Scrivono alla regione Protesta per la Mancanza delle agevolazioni Sulle frecce Già previste invece In Puglia Emilia Romagna E Marche E poi la proposta Per la regione Che arriva da Popoli L'aggiunta di Popoli Chiede di intitolare L'aeroporto D'Abruzzo Di Pescara A Corradino D'Ascanio Il genio aeronautico L'inventore tra l'altro Del volo verticale Dell'elica E soprattutto Della Vespa Andiamo ancora avanti Siamo Ai concorsi In comune Al via Alle prove orali Sono state rese note Le date Terminati gli esami Iscritti Adesso si passa Alla seconda fase Delle selezioni E poi Oreto Impianto Biogassi Il direttore della riserva Boccia il progetto Questa sera ci sarà Un'assemblea pubblica E poi Appenne Spazio all'associazione L'Ite Nella città Vestina Contestata la scelta Del comune Due stanze Dell'ex tribunale Alla città di Pianella L'opposizione Insorge E poi Arrosticini in tour Vince Pina Di Marzio Di Rosciano In questa speciale gara Per i migliori Arrosticini Andiamo avanti E ci spostiamo A Montesilvano Dove si prepara Il Natale Con le luminarie Che saranno presenti Anche Nell'importante Arteria di Via Vestina Dal primo dicembre Luci Alberi In centro E nella zona Colle Oggi un vertice Tra sindaco E commercianti Sugli eventi E poi Andiamo a Cepagatti La strada dissestata Fa vibrare le case E la protesta Proprio a Cepagatti Per i problemi Sulla strada statale 602 A Francavilla Avvocato chiede un milione All'ex cliente Lei lo denunciò Per stalking Sette anni fa Poi ritirò la querela Ora Illegale Vuole I danni Siamo alla pagina Di Chieti Paura all'industriale Mai partiti I lavori per 15 milioni Nella scuola Dove crolla l'intonaco Il primo maxi Finanziamento Risale al 2015 Ma la provincia Non ha ancora appaltato L'intervento Oggi scatta la protesta Degli studenti Dopo l'incidente di sabato Dell'alunno colpito Dai Calcinacci Ortona La sede tua In concessione privati Autisti In protesta Vediamo la prossima pagina Sempre a Chieti Chi paga il funerale L'ite in obitorio Arrivano i carabinieri Accuse reciproche Talla vedova E gli altri parenti Offese e minacce Davanti alla bare Parte La chiamata Al 112 A casa Canditella Rubano 30 quintali Di legna Presi Dai carabinieri E poi Folla Abbasto Per l'addio All'ex Direttore generale Del comune Ieri funerali Di palazzuolo Gli ex sindaci È stato un istancabile Servitore Dello Stato Siamo alla pagina Dell'Aquila Morì per la trasfusione Di sangue infetto Ministero colpevole In questo caso Siamo però Nella Marsica D'Avezzano La Cassazione Rinvia gli atti Alla Corte d'Appello In ballo il risarcimento I familiari Della donna Deceduta Ancora Avezzano Le comunali Il PD punta Su liste civiche Moderati Di centro Sinistra Il maltempo Non concede tregua Soprattutto Nella Marsica Alberi abbattuti Allerta per il fiume Liri Straripato Il rio Carnello Monitoraggi E sopralluoghi Soprattutto Proprio Nella Marsica E all'Aquila Nell'Aquilano Incidenti e due feriti Nella notte Una è grave Un cinquantenne Finisce fuori strada Torni in parte Una ragazza Si cappotta Con la panda In città Siamo alla pagina Di Teramo Del quotidiano Il centro Un collegamento veloce Tra l'A24 E i prati di Tivo Questo Il progetto Della provincia Di Teramo Che ha già fatto I primi sopralluoghi Si valutano due ipotesi Di Bonaventura Presidente della provincia Dice useremo i sentieri Ad alta quota O faremo Una nuova bretella A Montorio L'addio Al professore Con il sorriso La scomparsa Di Alessandro Di Domenico Antonio E poi in basso Tutti all'Aquila Per avere il super ospedale Oggi nel consiglio congiunto Delle due città L'emiciclo Si chiederà Una deroga Al decreto Lorenzini Vedete nella foto I due primi cittadini Dell'Aquila Pierluigi Biondi E di Teramo Gian Guido D'Alberto Erosione costa pezzi Anche e soprattutto Nel Teramano In questo caso I massi proteggono Solo in parte Dalla furia del mare La burrasca ieri Ha flagellato Soprattutto le spiagge Di Alba Adriatica E Pineto Labia le banche Aiutate i balneatori Proseguiamo Siamo però Alle pagine dello sport Allora prima di parlare Di sport Possiamo andare a vedere Le pagine interne Dell'inserto Abruzzo Del messaggero Di oggi Partiamo Dalla cronaca Di Pescara E dall'addio Al magistrato Bruno Paolo Amicarelli Natoga simbolo Di Tangentopoli Magistrato di lungo corso Accusatore per vocazione Lega il suo nome All'inchiesta Che decapitò Il potere DC Di Chieti E poi A Montesilvano Incidenti e disagi Per i solchi Della fibra Strade Ad ostacoli E poi Corti in concorso Al Sant'Andrea Siamo sempre a Pescara Festival del Cima Nuovo Per azzerare La disabilità Università e Spaz Resa dei conti In aula Torna In consiglio comunale Il DUP L'opposizione Chiede modifiche Dice no al MIBE Al posto Del centro Giovanile Se ne riparlerà Questo pomeriggio Pagina dell'Aquila Del messaggero La mobilità Diventa smart Più biciclette La funicolare Il comune presenta 17 progetti Per poter allentare La morsa Del traffico In città E poi Scuole oltre il MUSP La riforma È dannosa E poi I carabinieri Riconsegliano Al parroco Lo stensorio Rubato È stato trovato In un mercatino Vediamo ancora La sanità Super ospedale Oggi all'emiciclo Si cerca il patto Tra l'Aquila E Teramo Nell'incontro Che ci sarà Tra i due primi Cittadini Siamo alla pagina Della Marsica E di Sulmona E sonda Limele Si allaga pure il Fucino Siamo proprio Nella Marsica Dove la situazione Per il maltempo È sempre più Preoccupante Ad Avezzano La serone del PD Va al nazionale Con uno sguardo Alle comunali E poi Sulmona Enesima Rissa Nella Movida 17enne Finisce in ospedale Sempre a Sulmona Concorso per la polizia Municipale Via alle prove Infine Tornando Ad Avezzano Vedete Nella parte bassa Della pagina C'è questo articolo Che riguarda Il castello Orsini Che apre Al teatro Off Proseguiamo Pagina di Chieti Del quotidiano Il messaggero Fedeltà al lavoro Premio Nel segno Di Daniele Becci La moglie Francesca E la figlia Arianna Metteteci la passione Come faceva lui L'omaggio a Marco Vecchio Amministratore delegato Della Pilkington Ambasciatore Dello sviluppo Tecnologico Vasto Alunni in ritardo In classe Ancora Bufera Su Cerella E poi Ortona La biblioteca Entra a scuola Letture e giochi Per i bambini Infine a Lanciano Frana Di Santa Giusta Fondi sbloccati L'assessore Verna Può finalmente Dice partire L'appalto Da un milione e mezzo Di euro Per consolidare Il costone Siamo alla pagina Di Teramo Del messaggero Natale Trino gratuito Per lo shopping In centro Da dicembre Collegherà il parcheggio Multipiano di Piazzale San Francesco Accordo tra i negozianti E i gestori Dell'area di sosta Forse Sarà anche Prolungato Giulianova Emergenze Apre il COC Dopo 15 anni Di attesa E poi Ancora Giulianova Partita di calcio Finisce al buio Protesta Sui social Dei genitori Vediamo poi In basso La mareggiata Infatti l'obiettivo Autoscontro Diciamo Del portoghese Dopo la sostituzione Dell'ultima partita Di campionato E poi Favoloso Sinner Vedete Vince E diventa Numero 78 Al mondo Lasciamo Tutto sport Possiamo Iniziare a vedere Le pagine dello sport Del quotidiano Il centro Partiamo dalla prima pagina Verso Euro 2020 Stasera Gli azzurri In campo Contro l'Armenia Mancini L'Italia Italia Fai qualcosa Di speciale Il CT Vuole chiudere Il girone Di qualificazione A punteggio pieno I risultati Sono il frutto Di un cambio Di mentalità Vediamo anche La prossima pagina Che ci introduce Subito Al discorso Riguardante Il pescare Pescara Che dopo la sosta Si concentra Sulla gara Di venerdì prossimo Con la Cremonese Ma ovviamente I dirigenti Guardano al mercato Gli agenti Del difensore Svincolato De Coll In contatto Proprio con la società Bianca Azzurra Di Grazia Blindato Cisco invece Verso il rientro Al Sassuolo E vedete il titolo Di apertura Che riguarda Proprio il mercato Pescara Spunta De Coll Tra l'altro Ex Lanciano Brunori Il più richiesto Proposto Il terzino Ex Spezia Lanciano Piacenza E Modano E Modena Sondano La punta Del pesca Scusate Appunto Brunori Rebus Ciofani Per il Rinnovo Di contratto Tutino Del Verona Primo obiettivo Per l'attacco Tanti Tanti I giovani Seguiti Come Mikovski Del Genova Traore Dell'Atalanta E Tunkara Della Viterbese Ma come detto Scusate Zauri Pensa Alla conferma Del 4-3-2-1 Per Per la gara Con la Cremonese Lo stesso modulo Adottato Nella gara Con l'Empoli Gara vinta Dal Pescara E a proposito di Pescara, vediamo l'agenda bianca-azzurra da qui fino a fine anno, prima della sosta, della lunga sosta di gennaio. Pescara che giocherà, lo vedete, il venerdì 22, dunque venerdì prossimo, alle 21 in casa con la Cremonese. Poi ci sarà il posticipo di domenica 1 dicembre alle 21 allo stadio Curi contro il Perugia di Massimo Oddo. Poi si tornerà il 7 dicembre allo stadio Adriatico alle 15, sabato 7 dicembre contro il Venezia. Il sabato successivo si giocherà a Frosinone sempre alle 15, il 22 dicembre dunque l'ultima gara prima del Natale. Vedrai Pescara impegnato in casa sempre alle 15 ma di domenica con il Trapani. Poi il giorno di Santo Stefano ci sarà la lunga trasferta di Livorno, anche in questo caso si giocherà alle 15. L'anno si chiuderà con la gara del 29 dicembre Pescara-Chievo in programma nell'inedito orario delle 12.30. Dunque a ora di pranzo la gara con la formazione del Chievo-Verona. Vediamo come anche il messaggero parla del Pescara. Prima di fermarci per qualche attimo, Pescara e Cremona sfida a Casa Ciofani, ne parlavamo prima. Venerdì due fratelli contro il bianca-azzurro Matteo, 31 anni, contro il grigio-rosso Daniel. Prima cinque stagioni insieme con la maglia del Frosinone e poi separati perché uno gioca a Pescara. Appunto il difensore Matteo, l'attaccante Daniel, a Cremona. Giannitti, che è stato direttore sportivo anche del Frosinone, dice sarà una bella serata. La squadra corre ma lo stadio non si riempie per il Pescara a decimo posto nella speciale classifica degli spettatori. Dunque metà classifica per la società bianca-azzurra. E allora possiamo fermarci per qualche istante, andiamo in pubblicità, poi torneremo in studio, apriremo la pagina relativa alla Serie C per andare a vedere quello che è accaduto ieri al Bonolis tra Teramo e Ternara.